buonasera ragazzi bentornati sul mio canale bene ragazzi stasera non c'è il concetto trasmissione noi siamo nei razzurri perché purtroppo per problemi lavorativi di qualcuno non è stato possibile organizzare e quindi verrà organizzata domani ok quindi mi raccomando numerosi domani per la trasmissione vi metto in sovraimpressione quelle che saranno le date delle ultime puntate così prendete nota allora le prossime puntate saranno domani quindi martedì 09 martedì 16 e lunedì 22 queste saranno le ultime tre puntate della trasmissione noi siamo nerazzurri poi magari faremo se andremo a playoff faremo qualcosa e se così non dovesse essere poi magari durante il calcio mercato vedremo di organizzare qualche altra trasmissione va bene questo poi lo vedremo in seguito sempre per insomma sempre se matteo giovanni e maurizio saranno presenti poi anche laura ci dovesse essere bene detto questo io non voglio non mi dilungo in diciamo così nel commentato che non voglio commentare niente trasmissione c'è domani io volevo solo ricordarvi di di iscrivervi al canale e di condividere i video che facciamo e soprattutto le live e io vi davo solo che ringraziare perché il canale cresciuto dall'inizio sta crescendo e quindi questo grazie a voi io mi raccomando domani partecipate numerosi e telefonate perché a noi ci fa piacere sentirvi insomma dal vivo sentirvi dal vivo e sentire le vostre impressioni e quello che pensate vi devo solo che ringraziare ripeto perché il canale sta crescendo è cresciuto quindi fate pubblicità e fate insomma fate conoscere il canale a più persone possibili poi vi ricordo ma lo sapete già comunque ricordo che l'iscrizione al canale è gratuita e non non si deve pagare niente ma a noi ci fa piacere perché così fa crescere il canale ok detto questo io vi rimando a domani per la trasmissione noi siamo nera azzurri grazie dell'attenzione io vi rimetto insomma impressione le date le date delle ultime trasmissioni che faremo quindi martedì domani 0 9 martedì 16 e lunedì 22 ok poi salvo se dovremo andare playoff eccetera eccetera organizzeremo qualcosa e poi anche io credo durante il calcio mercato faremo probabilmente qualcosa bene io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa a domani